Prima dell'udienza generale, Papa Francesco ha incontrato i partecipanti all'annuale conferenza dei segretari del Christian World Communions, un organismo di dialogo e conoscenza reciproca che riunisce 19 chiese e confessioni cristiane, nella quale la Chiesa Cattolica è rappresentata dal Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani. Dopo il saluto del segretario della Federazione Luterana Mondiale, Marty Jung, Papa Francesco ha voluto intervenire a braccio, sottolineando, tra le parole dell'ospite, che Gesù è in cammino con noi. Il lavoro ecumenico, ha detto, non è solo quello dei teologi, ma si fa in cammino. È in cammino con Gesù, non col mio Gesù contro il tuo Gesù, con il nostro Gesù. Il cammino è semplice, si fa con la preghiera e con l'aiuto agli altri. Pregare insieme, l'ecumenismo dalla preghiera, gli uni per le altre e tutti per l'unità. E poi l'ecumenismo del lavoro per tanti bisognosi, per tanti uomini e donne che oggi soffrono ingiustizie, guerre, queste cose terribili. Tutti insieme aiutare, la carità, la carità al prossimo. E questo è ecumenismo, e questo è unità, già. Papa Francesco ha concluso ricordando l'ecumenismo del sangue che si vive quando i terroristi e le potenze mondiali perseguitano le minoranze cristiane e non si domandano se siamo luterani, ortodossi, cattolici o riformati. Riconoscono uno solo, il cristiano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.